Argo è la nuova forma di mangiare la tua porta. Argo è un'app per smartphone Bluetooth Smart Ready che permette di rilassare facile la tua porta. I cartoni, i texti o i telefoni possono essere intuitivamente aggiornati o dilettati con il tuo smartphone. LibraSmart è la migliore evoluzione del cilindro Iseo elettronico designato per lavorare in combinazione con l'Argo, l'app smartphone di Iseo che funziona su IOS e Android. L'argo i clienti target sono residenti, blocchi di appartamenti, commerciali come professionali, piacere, 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 piacere e piacere. Iseo cartoni, i cartoni legati MyFair, i tex o i telefoni NFC possono essere usati come schiacciare. I cartoni. I cartoni, appena presenti la credenza qualche centimetri dal lettore e la porta si unirete. Thanks to the Bluetooth smart technology, even iPhone users can now open the door without additional hardware plug-in for the iPhone. The free Argo app enables any Bluetooth smart ready phone to unlock the door. The Bluetooth smart technology allows remote unlocking of the door up to a distance of 10 meters. Use your phone as a remote control to unlock your door. Administrators with a MasterCard can manage the users that have access to the doors, just with the Argo app without additional software or any internet connection. Up to 300 users can be added, deleted and edited for extra functionalities. The list of users can be transferred from door to door. Administrators can read out the last 1000 events of the door, electronic lock, and send the report via email. Free software updates make sure you get the best performance from your door lock. When an update is available for your lock, your phone notifies you. The new software will be automatically installed in the lock from your phone. Enjoy new features protecting your investment in the Iseo locks. The Argo family will be growing. During the coming month, all the Iseo 01 locking solutions will become smart and communicate with Argo thanks to the Bluetooth smart technology.